Questa dovrebbe essere la barca, lo yacht su quale forse potrebbe anche venire la regina che all'andata è venuto con James Bond sull'elicottero, questa volta con questa barca aveva festeggiato il Jubilee, non è mai stata qui davanti all'Aquatic Center, davanti allo Stadio Olimpico, non credo che riusciranno a portarla di là, però non so, questi sono capaci di tutto.